Nelle ultime settimane numerose pattuglie della Polizia di Stato sono state impegnate nel capoluogo Ibleo e nei comuni di Vittoria, Comiso, Modica, Ispica e Pozzallo per un'intensa attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, al contrasto della criminalità diffusa e a garantire la sicurezza dei cittadini. I controlli straordinari del territorio sono stati espletati con pattuglie della Questura e dei commissariati di pubblica sicurezza, in aggiunta alle volanti che ogni giorno svolgono costantemente servizi di controllo del territorio per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, rafforzati nell'occasione dalla presenza di equipaggi del reparto prevenzione crimine di Catania, che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha messo a disposizione del Questore di Ragusa per le specifiche competenze assegnate e le strumentazioni in dotazione. Il rafforzamento dei controlli è stato deciso in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in prefettura per innalzare i livelli di sicurezza contro i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nelle aree urbane periferiche di comuni della provincia. Per diversi giorni numerosi equipaggi della Polizia di Stato hanno pattugliato ad ampio raggio i centri storici e le zone periferiche dei comuni interessati ai controlli, in tutte le asce orarie della giornata, anche per prevenire situazioni di pericolo per la circolazione stradale e contrastare il fenomeno della criminalità in trasferta, composta da soggetti malintenzionati provenienti da altre province che raggiungono il capoluogo ibleo per perpetrare reati di natura predatoria. Importanti risultati raccolti dalle pattuglie messe in campo dalla Questura e dai commissariati che nei giorni scorsi hanno proceduto al controllo straordinario del territorio. Sono state identificate 786 persone, controllati 402 veicoli, elevate 25 sanzioni per violazione al codice della strada, sottoposti a sequestro 4 veicoli e 2 sottoposti a fermo amministrativo. Gli agenti impegnati nei controlli hanno anche eseguito 34 perquisizioni personali e sui veicoli per reprimere e prevenire il consumo di stupefacenti. In occasione dei servizi straordinari di controllo del territorio sono stati intensificati anche i controlli alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, sottoposti agli arresti domiciliari nonché ai soggetti sottoposti alle misure di prevenzione.